I siti verranno esposti poi sul sito dell'Aliana Mulai Cosplay, ricordiamo il sito www.alianamulaicosplay.interfree.it Oltre a questo ci saranno le foto dell'intera giornata, quindi invitiamo a visitare il sito, giusto? Sì. Davvero? Fa la foto? Facciamo la foto con i giurati, foto con i giurati. Marco aspetta un attimo, per correttezza facciamo vedere anche Marco, anche l'altro disegno. Oh giusto, giusto. Allora, facciamo il secondo partecipante è stato Silvia Rizzo. Facciamo un applauso anche a Silvia Rizzo per favore. Che vuole lei? No, te non senti nulla. Via via. Sì, sì, facciameli. Oh, vieni, vieni, vieni. Ce ne sono? Ricordiamo, ricordiamo, ci sono le scalette dietro. Sono nascoste, ma ci sono. E perché non me le avete detto? Sono nascoste. Ecco anche il mio disegno. Non capite l'opera d'arte. Ok. Qui mi tirano le pietre qua dietro. Ricordiamo a tutti i cosplay che tra esattamente mezz'ora inizia la gara cosplay. Uuuu, applauso! Ok, un ringraziamento a tutti i partecipanti della gara di disegno. Abbasso l'amore. Vabbè, un ringraziamento a tutti i partecipanti della gara di disegno. Ok, le scalette sono di là. Prego. Ok, appuntamento tra mezz'ora per la gara cosplay. Eeeh. 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 Eeeh.